53 tartarughine hanno raggiunto il mare in Cilento. La mamma aveva deposto le uova il 12 giugno scorso nella spiaggia di Ascea. 48 ore fa, proprio ad Ascea, una prima piccola tartaruga marina battezzata col nome di Rena era uscita solitaria dalla sabbia e aveva raggiunto il mare. Questa notte invece altre 53 hanno preso la stessa strada. La nascita della caretta caretta è avvenuta sotto lo sguardo attento dei volontari dell'EMPA che, insieme ai biologi del centro Anton Dorn, hanno lavorato per individuare i nidi, metterli in sicurezza e sorvegliare fino alla nascita delle tartarughe. È un record per noi, ha affermato l'ente protezione animali di Salerno, ma ci aspettiamo altre risalite. Negli scorsi anni non era mai capitato di assistere alle schiuse e contemporaneamente alla scoperta di nuove tracce. Merito anche di una sempre crescente sensibilità e all'impegno costante dei volontari che da metà giugno ogni giorno controllano chilometri e chilometri di spiaggia. Ad oggi è il record nella provincia di Salerno dove sono stati ritrovati 25 nidi di tartarughe caretta caretta. L'EMPA ha diramato anche un bademecum per i consigli su chi incontra una tartaruga. Chi l'ha vista mentre risale la spiaggia probabilmente si trova davanti ad una femmina adulta che sta cercando un luogo adatto per depositare le sue uova. È importante non disturbare l'animale, non illuminarlo neanche per fare foto. Se dovreste incontrare l'animale in queste fasi o le tracce sulla sabbia lasciate dal suo passaggio, il consiglio dell'EMPA è di contattare la Capitaneria di Porto al 15.30.